Buongiorno, oggi è martedì 11 aprile, rassegna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo parabilmente nuvoloso sull'intero territorio alto tesino, temperature minime e massime in linea con la giornata di ieri, forse qualche lieve flessione nelle ore centrali. Con l'aiuto di Massimo Moro andiamo a vedere qual è la situazione questa mattina alle 6.30 a San Paolo di Appiano a poca distanza da Bolzano, come nostra abitudine vi mostriamo anche la grafica dell'ufficio meteo della provincia, vedete temperature massime a Bolzano di 23 gradi, 22 a Merano, 18 a Silandro, 19 gradi a Bressanone, 17 a Brunico, 11 gradi a Vipiteno. Le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo questa mattina in Edicola, l'Alto Andige dedica spazio ancora una volta al tema della formazione, formazione fin dalla prima infanzia e arriva l'inglese alle scuole materne. Il progetto per gli asili italiani stanziati quasi 2 milioni di euro. La cronaca a cura del Corriere dell'Alto Adige, trasparenza, Bolzano censurata, anticorruzione, cantone avverte, nessuna deroga, redditi, appalti ambiente, dati carenti. La cronaca lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, ci si occupa della possibilità di nuove assunzioni da parte dei comuni alto tesini, purtroppo ladri all'opera anche nelle chiese, è accaduto nella parrocchia di Maia Bassa. Campagna di sensibilizzazione riguardo l'abbattimento delle barriere architettoniche, testimonia d'eccezione l'assessore Marta Stoker, il presidente Compatcher, che hanno provato di prima persona quanto spazio occorra per spostarsi in sede dell'hotel oppure spingendo un passeggino. Il quotidiano Tagest Zeitung, Thomas Schell, il suo futuro dopo l'approvazione della riforma sanitaria. Andiamo a livello nazionale con il Corriere della Sera, false prove nel caso Consip, l'ex premier dice, la verità adesso viene a galla, il sole 24 ore slitta la pensione anticipata, ma per il governo il rinvio potrebbe essere solo di due settimane. Gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, ultimo giorno per Tip World, la fiera a Brunico dedicata agli hotel e alla ristorazione. Il 15 di aprile, Force Day Palamano, protagonista nella partita tra Merano e Bolzano. Grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.